Scrive, a tesi di laurea in archeologia marina, erano state trovate delle ammore, noi un po' per gioco, un po' per approfondire la tesi, inizia a scalare la grotta insieme a un suo collega. E nel gradino, in alto, lì davanti a noi, trovano dei respi fossili di un animale molto simile al cielo.